Il 2012 è stato un anno attivissimo anche dal punto di vista delle botte virtuali. Tra newcomers, vecchie glorie e crossover inaspettati, il genere ha visto molti nuovi arrivi di gran qualità. Vediamo insieme chi ha tirato il pugno più forte stavolta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.